Un giocatore che abbiamo voluto era uno degli obiettivi, gli obiettivi erano diversi, gli altri obiettivi se vi interessa erano Omar Thomas e Sean Huff, non per motivi diversi non sono stati raggiunti ma erano tre obiettivi alla pari. Sono venuto carichissimo a dare una mano a questa società che mi ha dato l'opportunità e perciò vi voglio ringraziare. Io sono contentissimo per questa opportunità e mi metto in gioco, o mi sono messo in gioco subito da l'ieri e cerco di continuare il mio percorso qua più lungo possibile. Posso essere di aiuto perché comunque basket è sempre gioco di squadra e alla fine la squadra sempre prevale sopra l'individualità. E qua ho visto tanti giocatori proprio bravi, stile di gioco che il coach propone, penso che può essere beneficiario anche per me. Si è presentato molto bene, sia come lingua, come linguaggio, come autorevolezza, all'interno dello spogliatoio questo sarà sicuramente un valore aggiunto? La squadra ha bisogno, la squadra ha bisogno sicuramente di personalità e mi auguro che lui sia il giocatore con la giusta personalità per questa squadra, che trasmetta personalità positiva perché in questo momento abbiamo bisogno di personalità positiva, energia positiva e non negatività. Quindi anche i giocatori l'hanno, i compagni, l'hanno preso? Non ci siamo ancora allenati, sì. Non ci siamo ancora allenati, sì. Però potrebbe essere quello che fa la differenza della stagione? Se viene inserito? È stato preso per questo, è stato preso perché avevamo delle carenze, avevamo delle difficoltà e in queste difficoltà abbiamo pensato che il giri potesse essere giocatore giusto.